Buonasera e benvenuti a 12 porte, settimanale di informazione della Chiesa di Bologna. Ricorre proprio oggi, il 24 di gennaio, la memoria di San Francesco di Sal, il santo che è venerato come patrono dei giornalisti e di tutti coloro che operano nell'ambito della comunicazione. San Francesco fu il primo vescovo di Ginevra a non poter entrare nella sua sede a causa della riforma calvinista. privato della possibilità di predicare nella sua città, percorreva i territori a lui affidati, diffondendo piccoli messaggi scritti su foglietti volanti, potremmo dire quasi dei tweet dei giorni nostri che contribuirono molto alla conversione di larghi strati della popolazione. Si impegnò, tra le tante altre cose, all'educazione alla fede di un sordomuto, aprendo nuove forme di comunicazione con queste persone. Con Santa Giovanna Francesca fondò l'ordine della visitazione, ispirò nel secolo successivo San Giovanni Bosco che diede il nome di Salesiana alla sua opera. San Francesco di Sal anticipò l'insegnamento del Concilio Vaticano II sulla comune vocazione di tutti i battezzati alla santità. Oggi pomeriggio numerosi giornalisti cattolici della regione si sono riuniti a Carpi per celebrare la festa del patrono, mentre il vicario generale Monsignor Giovanni Silvani ha celebrato la messa nel monastero della visitazione.